È stata una dolce domenica, quella vissuta dalla San Cataldese grazie alla preziosa vittoria contro il Real Aversa per 2-0. La squadra di Infantino doveva tornare alla vittoria e così è stato. Tre punti fondamentali per il percorso verso la salvezza che consentono a Everde Amaranto di raggiungere 34 punti in classifica. Il protagonista del pomeriggio allo stadio Valentino Mazzola è stato l'attaccante Bonanno, in stato di grazia, che con la sua doppietta ha steso il Real Aversa sempre più nella zona calda della classifica con soli 24 punti. È stata una domenica interlocutoria nel girone I con soltanto tre vittorie esterne, Trapani-Corsaro in casa della Mezzia Terme, mentre in coda la Mariglianese tiene in vita la speranza, superando il Castrovillari a domicilio. Questi i risultati della ventiquattresima giornata del campionato di Serie D, girone I. Castrovillari-Mariglianese 0 a 1, Acireale-Santa Maria-Cilento 2 a 0, Cittanovese-San Luca 0 a 0, La Mezzia Terme-Trapani 0 a 1, Locri-Catania 0 a 4, Paternovi-Bonese 1 a 0, Canicattì-Ragusa 0 a 0, Città di Sant'Agata-Licata 3 a 0, San Cataldese-Realla-Versa 2 a 0. La classifica vede sempre il Dominio del Catania a 63 punti, Seguel-Locri a 46, Città di Sant'Agata 45, La Mezzia Terme 39, poi Trapani-Elicata 38, Vibonese-San Cataldese a 34 punti, Canicattì 33, Santa Maria-Cilento 31, Ragusa 27, Città di Acireale 26, Castrovillari 26, San Luca 25, Realla-Versa 24, Cittanovese 22, Paterno 21, chiude la Mariglianese a 17 punti.